5 centesimi, 0,25, su una pantolota, una pantolota, grazie a tutti, che è Dio che è benedita. Allora, dalla Sardegna, Luciano Lavandina, dalla Sardegna! La Sardegna c'è! Ci siamo svegliati nel quarto del dottino per venire insieme a voi. Siamo qui per dire che quando sono nato, sono nato italiano, adesso ci stanno facendo passare la voglia, perché hanno venguto quest'Italia. Hanno venguto la strada ditta parentaria, siamo diventati un popolo di disgraziati, stavamo tutti bene, noi siamo gli italiani, quelli che producono, quelli che sanno fare le macchine, i mobili, i vestiti, non ci conto più niente nessuno, perché ci hanno venguto la lira. Ci hanno portato qualcosa nella Germania, mentre la Germania pagano 35-300 di traste e poi ci fanno pagare il 70%. Le nostre aziende, le nostre aziende stanno chiudendo. E allora vi saluto, vi porto il saluto dei sulci, vi porto il saluto degli artigiani e commercianti liberi, vi porto il saluto di tutti quegli operai.